Benvenuti ragazzi sul canale di Juki Next Gen, siamo qui oggi con la beta di piante contro zombie, garden warfare 2 e siamo capitati nella squadra degli zombie, questi ragazzi sono i nuovi zombie disponibili, capitan barba morta guardate che figo, poi c'è il super zombie, guardate un super re zombie bellissimo, senza una scarpa non so se avete visto, e infine abbiamo zombolino che sembra uno zombie piccolo, guardate quanto è figo e cazzuto, guardate lo zombie, il super zombie senza una scarpa, poi il resto sono il fante, l'ingegnere, lo scienziato e il fuoriclasse che già conoscevamo nel primo capitolo, ragazzi questa si chiama supremazia erbosa, bisogna combattere, bisogna difendere, conquistare dei avamposti, e quindi partiamo subito con lui, con il super zombie, guardate qui, no sono stato mangiato da una, questa è praticamente la mastica zombie versione yeti, quindi è yeti, buttiamoci qui dentro, guardate che figo quello, il chicco di mais ragazzi, il chicco di mais, è fighissimo, qui mi stanno sparando, ecco qua, di nuovo sta mastica zombie, che non so se è quella di prima, si, rinuovo a quello di prima, maledetto, spero che ti vado di traverso e muori malamente brutto bastardo, vediamo se riesco a distruggerlo, andiamo, no sono stato eliminato, guardate come si nascondono, che figo, che figo, cioè ci sono già quelli con personaggi ultra personalizzati, che tutti insieme, attacchiamoli tutti insieme, grande, ucciso, attacchiamo anche questo, e muori, che tu possa essere maledetto, ecco qua, distrutto, si ho capito però, vediamo se riesco a fare qualcosa qui, ok, proviamo ora, ecco qua, però qualcosa, qualche uccisione l'avrò fatta, guardate quanto è figo questa specie di stregone fatto a cactus, ragazzi è fighissimo, ecco qua, vediamo se riesco ad ammazzarlo, sì, andiamo a prendere questo, proviamo a sparargli questa, beccato, vediamo, ecco qua, livello 2 dove vai? fail ragazzi, fail, non rianimabile, me ne sono andato giù ok, facciamo di tutto, distruggiamo tutto guardate qui che casino ragazzi eh, sono stato distrutto ma c'è veramente il casino, guardate che bello questo mettiamoli questa, beccati questa brutto bastardo guardate dal lato come sparano vediamo se riesco a fare qualcosa prima di morire, sì ecco qua io non morirò da solo, mi porterò qualcuno di voi con me guardate che guerra ragazzi, è guerra totale vediamo cosa riesce a fare contro di lui nooo, sono stato distrutto, allora ragazzi il potere di questo super eroe eh, l'unico che non mi piace tanto è il vento perché non ha molto senso, per il resto invece sì ok ragazzi finita a 3 pari però mi sa che abbiamo comunque vinto perché abbiamo difeso le postazioni 3 postazioni zombie, quindi le piante non hanno vinto questi sono i migliori quindi questa è un'altra novità di quest'anno, vedete mettono anche i migliori ovviamente noi non ci siamo però il personaggio è sviluppato pochissimo infatti ho fatto solo 4 kill eh, ok ragazzi, allora vi porto la seconda partita, vi porto un'altra partita ci vediamo fra poco con la seconda partita ok ragazzi, eccoci alla seconda partita quest'alto siamo nella malattia gnomba e siamo ancora con i zombie volevo portarvi le piante ma la squadra è stata già tutta presa quindi sono completo, però ho cambiato il personaggio e quindi quest'alto inseriamo col pirata barba morta vediamo un po' com'è questo personaggio qui visto che è la prima volta che lo uso vediamo, vedete, questi spari guardate che figo anche questo qui intanto rianimiamo il compagno che è sempre utile rianimare i propri compagni ragazzi, ricordatevelo gnomo disinescato potere volante ragazzi, mi sono trasformato in un uccello praticamente ah, ragazzi, si trasforma in un volatile eh, ma toglie molto di più è più lento, però il pirata toglie di più devo dire questo devo dire questo il pirata toglie molto di più del supereroe qua, vedete il pirata toglie di più andiamo da qui R2 quindi possiamo farlo detonare bellissimo anzi, siamo stati uccisi però io ho fatto detonare il barile che diventa praticamente esplosivo e ho fatto, mi sa, un po' di kill perché ho fatto esplodere il barile è stupenda questa cosa qui il pirata è uno dei personaggi veramente molto più fighi e cazzuti che io abbia mai visto ok ecco qua distrutto vediamo vediamo questo che cos'è ok uh, ragazzi questo ragazzi era una specie di sale su una specie di cannone e muori cazzo ecco qua ha distrutto uno c'è una specie di portale nooo mi hanno ucciso brutto bastardo qua colpiamo quel bastardo vediamo se lo troviamo qui questo è compagno ok quello si sta andando a nascondere da qui e noi lo prendiamo qui ecco qua ucciso livello 2 quando ragazzi siete col personaggio poco potente sono difficilissimi da uccidere gli altri muori 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 si lavoro di squadra perfetto che cazzo mi sta sparando? ecco qua fuori un altro vediamo se abbiamo vinto o perso la bomba non l'ha presa nessuno non so se abbiamo vinto o se abbiamo perso no abbiamo perso per una sola bomba quindi 3 a 2 per loro questa è la novità di quest'anno come detto prima i giocatori migliori come avviene anche in Call of Duty quindi bella la novità e bel gioco ok allora ragazzi il video finisce qui spero che vi sia piaciuto se è così commentate lasciate un like condividete mi raccomando iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video qui da AngeloNero83 è tutto bella